Buonasera da Forlì tifosi Rosanero, Palermo arrivato in Romagna per la sfida di domani contro il Cesena dopo l'allenamento di questa mattina al tenente onorato i Rosaneri hanno preso il volo verso Bologna e si sono poi trasferiti in pullman qui a Forlì nella sede del ritiro prepartita 23 convocati da parte di mister Iachini, mancano Machinoc, poi ovviamente non ci sono gli infortunati Gonzales, Lazare e Morganele, lo squalificato Rispoli, una sfida molto particolare perché si gioca alle 12.30 la seconda volta in stagione dopo Empoli, abbiamo quindi sentito il nutrizionista Rosanero Tindaro Bongiovanni che ci spiega le linee guida del pasto prepartita in questa particolare occasione Noi in questa occasione abbiamo a disposizione un pasto in meno rispetto a quella che è la strategia abituale quindi iniziamo subito a ricaricarci di zuccheri con il pranzo, la merenda a cena i ragazzi trovano un buffet dove possono scegliersi tra delle verdure cotte e crude poi possono consumare dei carboidrati complessi e quindi avere tre possibilità, tre scelte e due alternative di secondi e consumeranno poi uno spuntino prima di andare a dormire In questa occasione quindi delle 12.30 il pasto vero e proprio per gara coinciderà con quella che io definisco una colazione rinforzata quindi due alternative, quella dolce e quella salata quella dolce i ragazzi hanno a disposizione lo yogurt, i cereali, piccole porzioni di crostata, della frutta fresca ma anche il tè e il caffè oppure la soluzione salata che consta di dei toast caldi e dei succhi, delle spremute di frutta e allo stesso tempo appunto trattandosi di una colazione salata abbiamo a disposizione, ho chiesto alla cucina di farmi preparare della pasta e del riso dove ho chiesto la cottura al dente che mi permette di mantenere l'indice glicemico della pasta a basso e quindi di non darmi sbalzi glicemici